Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in AndraLink e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Si è appena concluso l'evento dove era possibile farmare l'inverosimile ed io ho farmato un bel po' di punti. Diciamo che non ho farmato tanto quanto avrei voluto, però è andata bene. Tra l'altro 362.000 punti, quindi proprio quei 3-0 lì mi danno un senso di appagamento indescrivibile. Però oggi c'è un nuovo evento e l'evento è un evento con i portali bizzarri. Tra l'altro vi lascio in descrizione due siti, uno totalmente giapponese che vi annuncia un paio di giorni prima in genere l'evento successivo rispetto al quale si sta giocando in quel momento e un altro sito che si chiama Yo-Kai Watch Spagna, tutto spagnolo, dove trovate tutte le ultime novità sull'evento in corso. Quindi tutti gli Yo-Kai che si possono trovare, gli Yo-Kai che appaiono durante il mid-event e anche i livelli nascosti. C'è di tutto, davvero davvero tutto. Quindi vi lascio in descrizione, se avete bisogno trovate lì tutto quanto è necessario. Tra l'altro mi è stata posta una domanda, Andre Link ma perché slotti poco? Non è che slotto poco, slotto quello che mi va, nel senso che ho trovato lo Z, lo ZZ. Ho detto, va bene così, non serve che slotto altro, sono due Yo-Kai importanti per l'evento. È vero, potrei trovarne altri, ma affidandomi al sito, appunto, Yo-Kai Watch Spagna, che mi dice quello che fanno gli Yo-Kai che si possono trovare nella crank, non mi serve slottarli, non li voglio, non mi danno alcun bonus, alcun malus, non li faccio. Andiamo a fare qualche slottata, vediamo, magari capita, mi aumenta anche l'energy, Max, così. Non è necessario, ma, ehi, ci va bene tutto, ci va bene. Mmm, wow. Non è detto però che non ci sia nulla, possono sempre nascondere delle... Come non detto. Però ci può, però può succedere. Seconda slottata potrebbe già essere andata meglio, speriamo. Non è di questo evento, non è di questo evento, ancora niente, andiamo con la terza. Da sto punto mi sa che dieci slottate non me le toglie nessuno, se va avanti così. Ecco. Prende. Ok. Oh, ecco, già iniziamo a ragionare. Oh, ok. Ok, 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 oh, 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 una foca. Ok, perfetto. Shuka. Shuka. Eh, Shuka. Shuka, che è praticamente il tenente dell'esercito di Emma. Bravissima. Tra l'altro lei sembra la figlia di Nathan di Shadowside. Fa danno nei portali con Kuten. Ah, quello più difficile. Beh, non male, non male. Potrebbe rivelarsi utile. Ok, ancora. Un'altra slottata. Anche qui nulla di fatto. Andiamo ancora un'altra. Dai, oggi ragazzi, sì, oggi mi tocca. Un po' di slottate extra. Vabbè, oggi ragazzi tocca. Quando non trovo proprio nulla, 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 e ho tanti punti, posso farlo. Vabbè, questo qui è maxato per motivi particolari. Era lui quello che dava più punti durante l'evento, quindi ho farmato lì. E un'altra slottata a vuoto. Io a un certo punto mi fermo poi, se continuo a non trovare nulla. Emma, rango S. Oh! 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 Oh, che bello! Oh, che bello! Gento. Lui si chiama Gento. Esercito di Kaira. Lui dà... Ah, fa più danno nei portali che danno i tesori. Va bene, va bene. Non mi lamento. Ma vorrei trovare, tipo, che ne so, un rango triple S. Ma tipo un Saiya o un Fukun. Che almeno... Posso fare più danno al Rai-chan. Oh, Gianni! 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 Ma sul serio? Dopo questa non me ne frega niente. Mamma mia, che schifo. Che schifo. L'ultimo. Poi basta davvero. Io prego. Prego tutte le divinità. Ok, ok. Ok, ci siamo. Manca solo la Gnambo. Vediamo un po' che cosa ci riserverà la moneta in Super Gnambo. A quanto pare la Gnambo non è più solamente Gnambo, ma è Super Gnambo. Wow, ragazzi, ragazzi. Uh, però! Aspetta, aspetta. Ehm, cioè... Insomma, Magi in bambaraia. Beh. Beh. Non è proprio male, eh. Insomma, ci sta? Ci può stare, effettivamente, Magi in bambaraia. Ragazzi, delusione totale queste slottate. A differenza del Nintendo Direct di cui vedrete la reaction verso le 5. Quello mi è davvero piaciuto. Mi è piaciuto. Comunque, le slottate oggi sono state un po' quello che sono state. Andrà meglio la prossima volta, magari senza portali, con uno scramble. Niente fionda anche, eh. Niente golf. E niente evento live, per favore. NHN. Dai. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio comunque per aver seguito il video. In descrizione ho il link per Instagram e ai due siti di Yo-Kai Watch. Shout out dalla YouTube Start Game, che fa parte della Tier Star dei miei abbonati. E noi ci vediamo, ovviamente, come sempre, al prossimo video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Grazie.